Per prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Circa cento anni fa, a Fatima, in Portogallo, la Vergine Maria apparì come si sa ai tre pastorelli, ovvero Lucia, Francesco a Giacinta. Allora era il 13 giugno 1917 e improvvisamente i tre videro una luce apparire loro dinanzi. Dopo pochissimi istanti dinanzi a loro si ebbe la manifestazione celeste, con la Santa Vergine Maria che parò loro consegnando tre segreti che avevano molto probabilmente a che fare con la storia dell'umanità e la sua fine. La Vergine predisse che due dei fratelli, Giacinto e Francesco, sarebbero scomparsi dopo poco tempo. E così infatti avvenne. Quella che visse più di tutti fu Lucia, passata alla storia come Suor Lucia, l'unica custode appunto del cosiddetto terzo segreto di Fatima. Quel terzo segreto di Fatima, un vescovo vestito di bianco, c'era una grande croce. Il Papa, a cento anni dall'episodio delle apparizioni, prima di recarsi in Portogallo ha approvato il riconoscimento delle virtù eroiche di Suor Lucia, custode fedele del terzo segreto, l'ultima testimone delle apparizioni della Madonna di Fatima avvenute nel 1917. Una notizia che riempie il cuore dei fedeli di una gioia immensa. I suoi cugini che erano con Suor Lucia durante le apparizioni sono stati proclamati beati nel 2000 e poi santi nel 2017. Inoltre, il pontefice già ha firmato il documento che porterà in futuro alla beatificazione di Suor Lucia.